Ciao ragazzi, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento con la Carrera Giocatore e quindi con Andrè Castolo. Qualcuno di voi mi ha chiesto chi è Castolo, perché magari non era ancora nato quando c'era la leggenda, diciamo, di Castolo su PES. Ragazzi, come sapete, PES all'epoca, maggiormente qua nella mia zona, spopolava tantissimo. Stiamo parlando di 8-9 anni fa, spopolava tanto, molto molto più di FIFA, stiamo parlando di prima delle carriere su YouTube, eccetera. E PES andava per la maggiore, e per cui Castolo, chi era, non è un personaggio vero, reale, che è veramente esistito, non è un giocatore vero in attività. È un giocatore inventato dal gioco, da PES, da Pro Evolution, in quanto tu quando andavi a fare il campionato master, perché si chiama così la carriera allenatore in PES, quando andavi a fare il campionato master, avevi Castolo come personaggio di default, insieme a tanti altri, Minanda, Ximenez, eccetera. Sono giocatori inventati, di una squadra di default. Tu, anche se prendevi il Barcellona, potevi scegliere se usare il giocatore originale o i giocatori di default, che non erano forti, anzi, erano molto scarsi, e ti servivano, diciamo, per creare un pochino di difficoltà all'interno del gioco. E Castolo, ragazzi, è proprio uno di loro, un attaccante, era fortissimo, insieme a Minanda e Boucher, erano veramente forti, ed erano utilizzati, dalla stragrande maggioranza delle persone, anche successivamente, dopo l'arrivo dei vari campioni, venivano lasciati lo stesso all'interno della squadra, perché considerati comunque delle pedine fondamentali. E quindi Castolo mi è rimasto all'interno del mio cuore, e volevo portarlo quasi a nella realtà, facendo la vera storia di André Castolo, portandovela qui sulla carriera di FIFA. Ragazzi, io a questo punto direi di fare allenamento, cercando di capire adesso bene come fare, nessuno di voi me l'ha spiegato, magari spero in questo episodio qualcuno di voi me lo spieghi. Ok, andiamo a simulare tutto, ragazzi, speriamo di essere cresciuto un pochino. Beh, siamo cresciuti, però non riusciamo a salire di livello, questa è una cosa che non riesco a capire ancora. Comunque andiamo avanti, ragazzi. Ok, abbiamo subito per il club e per la nazionale. André, so che al momento i tuoi pensieri sono tutti la squadra Oxford, ma in qualità del tuo agente, ti ricordo che se hai convocato il nazionale Brasile si è fondamentale. Vabbè, non riusciremo adesso ad arrivare sicuramente il nazionale, non credo proprio. Allora ragazzi, cerchiamo di modificare un pochino il nostro giocatore, la stile di maglia. Sono riuscito a riscattare quella attillata, per cui io preferisco magari utilizzare questa per lui. Personalizziamola un pochino. Le maniche io direi di provare per adesso, vabbè, per adesso è estate, va bene le maniche corte. Per la lunghezza delle calze io voglio queste qui lunghe, che è un po' la Cristiano Ronaldo. E gli scarpini vediamo che cosa abbiamo, nulla di particolare, sinceramente, dobbiamo ancora riscattarli un pochino. Non ho riscattato nulla, credo, ancora. Vado a farlo, allora. Stile calcio di punizione, allora, lontano dalla palla. 90 per gradi rispetto alla palla mi piace molto. Mani basse sui fianchi, per poi calciare così, ok. Ok, rincorsa dritta, tecnica. Tecnica io lo batterei così. Respiro profondo, vabbè, Cristiano Ronaldo. Samba. Lui essendo brasiliano, ragazzi, samba. Lui è brasiliano, batterà così. Stile calcio di rigore. Respiro profondo, Cristiano Ronaldo. Ok, mani sui fianchi, testa bassa. Posizione media. Sembra un po' gay in questa posizione, però. Non calcia. Ok. Un piede davanti all'altro. Gambe larghe, braccia distese. Che è un Cristiano Ronaldo dei poveri. Rilassato. Ma sì, lui è il grande castolo, lui è rilassato. Ma mi piace questo, cos'è? Mostra orgoglio, in che senso? Alla Shevchenko, un po'. No, va bene questa qui rilassato, per adesso. Poi magari la cambiamo. Esultato in corsa. Braccia distese, braccia al cielo. No, baci. Andiamo. No. Cagata, cosa fa? Vabbè, Lucatoni. Beh, questa mi piace. Va bene questa. Mossa finale caratteristica. Vabbè, la caratteristica, allora dobbiamo fare tipo così, no? Alla... Alla grande Borini. Segno anche qui. Lui è brasiliano, la danza potremmo fare. Questa qui però è più da qualcos'altro. Uomo d'affari. Ibra. Eh. Ecco, io vorrei questa. Muevelo, muuevelo. Bella questa, ragazzi. Sulla cresta dell'onda, va bene così. Ok, questa non abbiamo ancora nulla, va bene. Perfetto. Andiamo avanti, allora. Dovrò riscattare i scarpini. Ragazzi, ecco qui. Allora, Nike. Queste verdi. Arancioni. Ho riscattato questa della Nike. Queste due. Ho le verdi e le arancioni. Solo loro l'ho scattato, giusto? Sì. Allora, a questo punto, tra verde e arancione... Proviamo le verde e speranza, dai. Le verde e speranza direi che va benissimo. Ok, siamo pronti. Andiamo avanti, ragazzi. Sono carichissimo. Ok, andiamo a simulare anche questa volta gli allenamenti. Ragazzi, purtroppo per ora bisogna fare così. Bisogna continuare a simulare gli allenamenti. Oh, siamo cresciuti un pochino. Finalmente. Era ora. Siamo cresciuti un po'. Stavo iniziando a preoccupare. Ok, finalmente, ragazzi. Dopo un sacco di allenamento siamo arrivati alla partita. Era ora. Siamo arrivati a giocarla, almeno. Allora, cosa vogliono da queste partite? Prossimo partito avremo difficoltà contro una o due squadre. Ma dovremmo riuscire a ottenere qualche punto. Sarà una partita difficile contro le squadre a Nortenet, non Town. C'è questa qui. E tutti dovranno dare il meglio. Mi aspetta una relazione del 9. Beh, ovvio. Gol che segni tre gol in queste partite. Percentuale di realizzazione del 42%. E assist 1. Wow. Non sarà sicuramente semplice. Giochiamo. Molto bene. Ci siamo, ragazzi. Stiamo per assistere al debutto di Andre Castolo. Nella squadra Oxford United. Come vedete, in attacco insieme a Dilton. Diamo inizio ai giochi. Eccoci qua, ragazzi. Debutto giocatori. Insieme a Castolo abbiamo anche Stephens, dell'altra squadra inglese. Northepton Town. Ci siamo. Non inquadro nel nostro giocatore. Non mi piace però questa telecamera, sicuramente. Sì, tacci la palla. Dai, qui la palla. Qui la palla. Grazie a McGuire. Grande McGuire. Palla è McGuire. Dai, pressa, Castolo. Magico. Magico Castolo che resiste qui. Ora c'è del pallone. Andiamo, andiamo a McDonald's. Andiamo a McDonald's che... Stiamo aspettando il tuo compagno Burger King qui. La misera, ragazzi. Dovevo fare tutto io. Dai. Dai, pressa, Castolo. Dai, 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 dai. Forse abbiamo fatto fallo, sì, infatti. E dai. Il pallone a Castolo che la stoppa bene. Bravissimo. Si gira molto bene. Chiede il pallone Serkomb. Serkomb ora va tranquillo, va da solo. Chiede ancora palla a Castolo. Stoppa benissimo ancora. Bravo, Castolo. Chiede l'1-2 con Lustram ce l'ha. Va Castolo. Castolo sulla destra. Velocissimo il brasiliano. Numeri d'alta scuola. Castolo. 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 Prima rete per lui. Tre professionisti. Addirittura Lustram attraversa la rete per andare ad abbracciarlo. Manco fosse Paranormal Activity. Grandissimo. Questo è il nostro primo gol, ragazzi. Il primo gol del nostro professionista. Castolo. Tiro a giro a rientrare. Nulla da fare per il portiere del Nottingham. Eh, del Northampton Town. Ok, Nottingham. 1-0. Grande Castolo. Sì, dammi la lunga. Va bene, va bene. Verso questo giocatore. McDonald. Dai, Mac. Dai, Mac. Tiene il pallone a me. Dai, Castolo. Bravissimo. Bravo, Castolo. Uh, ragazzi. Questo è un gran giocatore. Pallone indietro. Adesso per Scars. Dai, che sei Scars. Occhio. Il tiro di McDonald. 2-0. Andiamo a risultare insieme a lui. Eh no. Lui decide di venire a risultare da solo. Segna McDonald. Grande Big Mac. Fortissimo. 2-0, ragazzi. Siamo 2-0. Meno male che era una partita difficile. Per ora tutta tranquillamente in discesa questa sfida. Comunque, abbiamo fatto un'ottima azione qui. Quindi, ricominciamo la partita. Inizia il secondo tempo, ragazzi. Devo rallentare un pochino la corsa perché mi sono stancato molto durante il primo tempo. Devo correre un pochino meno. Stacciando L1, credo dovrebbe fare tutto automatico, giusto? Proviamo. Dai, ragazzi. Usciamo fuori da questa situazione. Northampton sta pressando moltissimo la nostra difesa. Non riusciamo neanche a toccare un pallone perché i nostri compagni non riescono a far nulla per adesso. Tanto c'è Moloni che tra un po' si butta il pallone fuori. Ancora Northampton. Bravo qui. Dath. Dath crossa in mezzo il pallone. Lundstrand. Bravissimo. In calcio d'angolo la butta. Vediamo se di testa siamo capaci. Vediamo un po' Crosso a qui dove siamo noi. No. Va bene, va bene lo stesso. Sia me, sia me. Di qui, qui, qui. Dai, se no mi stanco. Bravo. Pallone proprio per Castolo. Castolo. Gran palla verso Hilton che però era finito in fuorigioco, credo. Clark però. L'ex Oxford United da lontana. Di testa però recupera subito palla all'Oxford. Lundstrand cambiano gioco verso McGuire. Dai, qui nel taglio. Dagliela bene. Dagliela bene. Porta miseria. Ormai siamo stanchi. Tra un po' chiederemo anche il cambio, probabilmente. Dammela qui lunga. Dammela qui lunga. Bella palla. Di testa. Dai, ci siamo. Contra steri. Vinti 5 su 5. Dai. Iniziamo a migliorare, ragazzi. Castolo. Che palla incredibile per Serkomb. Che calcia. E non può sbagliare. 3 a 0. Andiamo a festeggiare insieme a lui. Grande Serkomb. Grande assist ancora di Andre Castolo, ragazzi. Vi vediamo. Qui sbagliano. Quello Hortempton di esterno. Vede il taglio di Serkomb. Che non può sbagliare davanti al portiere. 3 a 0. E, ragazzi, abbiamo iniziato davvero molto, molto bene. Bravo qui ancora. Numeri di alta scuola qui di Castolo. Però è molto stanco. Pressa tanto gli avversari. Qui va giù anche il giocatore commettendo fallo. Qui c'è un cambio. Non riguarda noi. Arbitro. Eh, arbitro. Ciao. Allenatore. Dai, mister. Forza. Vedi che siamo stanchi. Chiediamolo non il cambio, dai. Chi di sostituzione. Non so se vale qualcosa in meno. Comunque, standing ovation per Andre Castolo. La prima da professionista. Un gol e un assist. Grandissimo Andre Castolo. Guardate tutti i tifosi dell'Oxford. Su con le mani, ragazzi. E voi lasciate un gran mi piace per la grande carriera che si aspetta ad avere. Andre Castolo, ragazzi. Simuliamo il resto della partita. Ok. Tanto siamo già 3 a 0. Uomo partita. Grande. Controllo palla più 1. Anche i rigori più 1. Fantastico. Prima partita subito uomo partita. Direi che non è male, davvero. Buono. Stiamo andando anche verso il livello 67. Dopo essere saliti al livello 66. Direi che stiamo andando abbastanza bene. Andiamo avanti. Che abbiamo... Probabilmente no. Non giocheremo questa partita contro il North Country. Penso di Coppa. Peccato. Peccato. Avrei voluto giocarla tanto. Vediamo che cosa faranno i nostri compagni. Andiamo a simularla subito col triangolo. Ok. Perdiamo 1 a 0. Male male. Siamo fuori dalla Coppa probabilmente. Però questo è giusto. Perché Mister ci dovevi far giocare. Ok. Aggiornamento Ryan Taylor e George Bullock. Squalificato. Queste sono cose che ci interessano relativamente poco. Adesso abbiamo una partita... La seconda partita e ultima partita del episodio contro l'Earthpool. Ok. Che poi in realtà è la terza partita dell'episodio. Perché anche quella simulata è una partita. Andiamo ad affrontare l'Earthpool. Ragazzi. Sì. Lundstrand. Recupera subito la palla. Castolo. Vede. Serve un'ottima palla verso Hilton. Hilton. Hilton indietro ancora verso di noi. Sbagliando però. Bella palla però gli abbiamo andato. Uh. Gran colpo di testa qui. Dai dai. Dai Sirkomb. Bella palla proprio per noi. Chiediamo l'1-2 con Lundstrand. Lo otteniamo. Ancora diamo la palla a Hilton. Hilton dai. Dacela qui. Dacela qui. Bella. Bella questa azione. Chiudiamola. Chiudiamola. No. Peccato. Devo fare un cross migliore sicuramente. Ho usato il triangolo. Non è stata una gran bella scelta. Occhio qui l'Heart Pool. Cairole mette il pallone dentro. Non ci arriva nessuno. Magnai Birdman. Pericolosissimi qui. Quelli dell'Heart Pool. Veramente. Una bella squadra. Noi dobbiamo fare sicuramente qualcosina in più. Ma è una cosa strana. Quella che durante la carriera del giocatore. La squadra dove gioca. Il nostro giocatore gioca. Non gioca sempre benissimo. Mi piace tantissimo andare a chiedere palla di continuo. Quasi facendo il regista. Ci alleniamo per andare a giocare al Barcellona. Vedete? Camminando senza stancarsi tanto. Da un passaggio. Dai Lundstrand. Calcia pure. Calcia pure. Finisce qui il primo tempo. Siamo 0-0. Non abbiamo fatto una conclusione in porta. Né nulla. Abbiamo ottenuto pochi palloni. L'unici pallone che abbiamo giocato. Sono stati appunto gli ultimi che avete visto. E quindi il mister qua fa uscire McDonald's. Facendo entrare Oda Oda. Proviamoci dai. Occhio l'Heart Pool. Fidderstone. Pallone per Walker. Il tiro si gira. Per fortuna. Non ottiene nulla. L'arbitro qui però ha fischiato un fallo. No. Un calcio d'angolo per una deviazione. Infatti si hanno lamentati i nostri giocatori. Calcio d'angolo. Viene battuto adesso. Colpo di testa. Riluza all'indietro verso Moutney. Moutney adesso però non sa cosa fare. Cos'è tutta la grassa a destra. Moutney. Dai ragazzi. Pressiamo gli occhi. I cross in mezzo. Slowcomb. Capisce tutto. Dai che dobbiamo partire. Non è adesso in contropiede. Slowcomb. Sto chiamando palla da mezz'ora. Scars. Ci dà il pallone adesso. Scars. Castolo. E che brutta palla col triangolo. Dobbiamo usare di più la X. Non il triangolo. Uh qua che sbagliano. Dai Castolo. Bello stop. Ancora dai 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 Castolo. Castolo entra in aria. Castolo. Castolo pallone dentro per Hilton. Lo anticipano all'ultimo. Qui potevamo sicuramente calciare. Però Castolo è anche altruista. Non vuole sempre calciare in porta. E qui si è visto la motivazione. Castolo però ancora lui. Castolo. Giocatore driblati. 5 su 5. Crosso al pallone. In mezzo. Carson. Butta il pallone via. Poi riesce Odouda a guadagnare un calcio d'angolo. Andiamo a prenderci la palla qui in questo calcio d'angolo. Pallone messo troppo in là di testa qui. Fanno un patatrack. Chiediamo la palla. Chiediamo la palla. Lo teniamo adesso qui. Dai Castolo. Inventa una magia delle tue. No. Viene fermato da Waker. E che cavolo però. Dai ragazzi andate a prendere quella palla che mancano 3 minuti. Ho una valutazione di 5.7. Dai dai. Non posso mica correre io tutto il tempo. Su. Aiutatemi. Aiutatemi ragazzi. Pressatelo. Pressatelo. Niente ragazzi. Continua all'ottantanovesimo. Continua ad avere il possesso palla per 10 minuti. Quelli dell'Airpool. E guardate qui. Abbiamo recuperato palla. Forza. Andiamo. 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 Un minuto e basta di recupero. Arbitro. Ma sei pazzo? Dobbiamo recuperare noi. Grazie arbitro. Grazie. E' l'unica volta che abbiamo la palla lì. Finisce 0 a 0. Una valutazione di 5.7. Questa qui non è stata. Anzi. 5.8. Non è stata una grandissima partita purtroppo per il nostro eroe Castolo. Ma ci rifaremo sicuramente nella prossima ragazzi. Andiamo a guardare. Baldoc è tornato. Bene. Niente di che. Allora ragazzi. Andiamo a salvare. Fatemi sapere in un commento qui sotto se avete delle chicche ragazzi da dirmi riguardanti la carriera giocatore. Perché appunto praticamente sono state le prime due partite che abbiamo, che ho giocato io in carriera giocatore quest'anno. Fatemi sapere quindi in un commento qui sotto. Lasciate un mi piace se vi interessa quindi che vi porti continuamente la carriera giocatore. Ci tengo tantissimo davvero a questa carriera perché Castolo per me resta su nell'olimpo diciamo dei giocatori, dei giochi videoludici di calcio per eccellenza per me. Per cui è una parte del mio cuore e vorrei diciamo lasciare in eredità per voi che non lo conoscete questo straordinario giocatore. Siamo soltanto all'inizio ragazzi. Quindi un saluto. Ciao da Papyrus.